Eccoci qui, ecco la principale differenza tra un italiano e un ungherese è che l'ungherese comincia la cena con la grappa, l'italiano la finisce con la palinco. Gli elbarm? Hány óra? 20 óra. És mit mondta meg? Hova mennek a haladtan? Mely be? Kéne? Ez most magyar palinka vagy? maggiore 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 non so come il nostro maggiore salut salut chiedi non mi non è venuto non è venuto non è venuto non maっ e ma madre ma ma Grazie.